Stefano e Luca Cataldo, di 23 e 20 anni, Emiliano Spinelli, di 19, pescaresi, tutti pregiudicati e nulla facenti. Sono i tre giovani arrestati questa mattina, intorno alle 5 e mezzo, dai carabinieri della stazione di Pescara a Scalo, intervenuti insieme ai colleghi del Nord. I reati contestati, detenzione a fini di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. Sulle loro tracce i militari si erano messi all'indomani dell'operazione Ola Ola del luglio dello scorso anno. 24 persone finirono in manette, tra queste un pusher che confessò di essere stato costretto dai tre a spacciare in strada. Intercettazioni telefoniche, pedinamenti, fotografie e servizi di osservazione hanno confermato le dichiarazioni. I tre rappresentano un trade union tra grossisti e spaccio nel quartiere di Zanni a Pescara. Questa mattina all'alba l'esecuzione delle misure restrittive disposte dal GIP di fine su richiesta del PM Varone. Ai domiciliari lo spinelli in carcere i fratelli Cataldo perché con precedenti per rapina e perché nella perquisizione domiciliare nei confronti di Luca e Cataldo i carabinieri hanno trovato armi e munizioni, in particolare un Glock calibro 9,21 acquistato in maniera fraudolenta con documenti falsi lo scorso novembre a Falconara Marittima e pistola non dichiarata. Sequestrata anche una soft tail priva di tappo rosso e munizioni, cartucce anche per una pistola della quale è stata trovata solo la custodia. Ulteriori indagini anche del Ragis stanno verificando se queste armi sono state utilizzate e se ci sono riscontri in rapine negli ultimi mesi. I Cataldo sono in carcere a San Donato e Luca deve rispondere anche del reato di detenzione e porto illegale di armi e munizionamento nonché ricettazione.